Due regine che sono qui per seppellire le avversarie sotto una risata. Ma la precisione, ma l'amore, splendido e splendente. Ci sono dei chirurghi, dei dottori, una bella intrasparente come un uomo di serpente. Mi stanno facendo un po' delle punture inestetiche, non ho capito. Notte o chi rungopla, di rungopla, di rungopla. Grazie a tutti!